Non è presunzione la mia, vorrei ricalcare un po' l'Atalanta in Serie A, una squadra che può vincere e può perdere con chiunque, però questo dovrebbe essere lo spirito di quest'anno e dobbiamo crescere tutti quanti insieme. Francesco Farina è individuo alla Stella Polare da seguire per il suo Barletta nel giorno del raduno allo stadio Cosimo Puttilli, dopo un'annata trionfale con promozione in D e vittoria della fase nazionale della Coppa Italia di Lettanti e tempo di ripartire da zero. A me personalmente mancava lo stadio di casa da quattro anni, gli ultimi quattro anni non l'ho fatto giocando sempre fuori casa, fortunatamente sono arrivati anche i risultati, adesso siamo orgogliosi di stare qua, avere il pubblico di Barletta alle spalle per me sarà fondamentale. L'organico nel parco over, assicura l'allenatore, è completo al 90%, sono ben 12 confermati, elenco al quale si è aggiunto nel giorno del raduno Simone Nannola. Forse è stato me avrei confermato tutti, però alcuni per ragioni anagrafiche, altri per altri tipi di ragioni sono andati via, però siamo stati bravi pure a fare, a livello di over abbiamo preso Loi Odice, Lattanzio, prenderemo ancora qualcun altro, giocatori che vanno per la maggiore. Alla voce arrivi ecco Riccardo Lattanzio e Nicola Loi Odice, profili che assicureranno qualità ed esperienza che Farina conosce bene. Loi Odice già l'ho avuto per due anni, l'ho allenato, mi aspetto il solito contributo, giocatori importanti che si devono mettere a disposizione del gruppo, noi ci metteremo a disposizione loro, sono due bravi ragazzi, due ragazzi che stanno bene in gruppo e quindi la cosa importante al di là della citazione ultima è che noi abbiamo tutti giocatori importanti, dobbiamo essere importanti tutti perché la nostra forza dell'anno scorso è stata vincere le partite anche quando mancavano due, tre, quattro giocatori. Rimpolpare il Parco Under con circa dieci giocatori del 2003 e del 2004 in prova è una delle priorità, così come l'arrivo del difensore centrale. Probabilmente sì, numericamente 24-25 calciatori, cercheremo pure di aggregare qualcuno della nostra Juniores, quindi porteremo pure in campo qualche barlettano. Non si parte mai il ritiro con l'organica al 100%, io e il direttore abbiamo, dal primo momento che ci siamo vissi abbiamo deciso una cosa, che se dobbiamo cambiare i nostri dobbiamo cambiare i giocatori che almeno sulla carta siano migliori. Nel giorno del raduno è arrivata anche una notizia che sa di ufficialità per voce del sindaco Cannito, per giovedì 4 agosto è convocata la commissione di pubblico spettacolo per autorizzare l'agibilità dell'impianto e da settembre il Barletta potrà tornare a giocare nello stadio Cosimo Puttilli, parole che arrivano in ore in cui la campagna abbonamenti ha portato alla sottoscrizione di oltre 1200 tessere. Peccati che i campionati non si vincono con gli abbonamenti, se no già l'avremmo vinto, i campionati purtroppo si vincono con la pazienza, con lo stare in categoria. Noi siamo neopromossi, manchiamo in questa categoria, il Barletta manchia in questa categoria da almeno 15 anni, quindi in questo momento noi sappiamo che abbiamo il pubblico che è 3 milioni in Italia, noi dovremo cercare di arrivare al loro livello.